Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, siamo qui su Pausa Caffè per una nuova news, ma prima di partire vi ricordo che potrete iscrivervi al canale e se non l'avete fatto, attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video, oppure seguire la pagina se parliamo di FB. Vi ricordo inoltre che potrete lasciare un bel mi piace che al canale aiuta veramente tanto, o commentare e dire la vostra qui sotto, o semplicemente condividere con i vostri amici. La tecnologia si dimostra sempre una risorsa preziosa per scoprire le meraviglie dell'universo. Se poi serve a preservare l'integrità della Terra, si tratta di una questione di sicurezza. L'intelligenza artificiale, infatti, attraverso l'applicazione di un algoritmo, ha scoperto un asteroide che potrebbe rivelarsi pericoloso per il pianeta. Cosa ha scoperto l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale divide l'opinione pubblica. C'è chi la vede come una risorsa, chi invece come una minaccia che presto sostituirà l'uomo in quasi tutte le funzioni che oggi ricopre. Se però un algoritmo rileva la presenza di un asteroide pericoloso per la Terra, in questo caso la sua applicazione è certamente una salvezza. La scoperta è di un team di ricercatori dell'Università di Washington, attraverso il sistema di rilevamento Atlas delle Hawaii e una tecnologia di nuova generazione nota come IllyLink 3D. L'obiettivo è lavorare a un'indagine decennale del vera corso Rubino-Osservatori, ma già sono arrivati i primi risultati. Sono proprio gli esperti ad avere definito il corpo celeste in potenzialmente pericoloso, vista la vicinanza al pianeta. Infatti, merita di essere monitorato. L'asteroide pericoloso si chiama 2022 SF-289 ed è lungo circa 180 metri. Viene tenuto sotto controllo perché è fra i corpi celesti con una traiettoria che si avvicina a 5 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Per intendersi si tratta di circa 20 volte la distanza che c'è fra Luna e Terra. Sono noti come oggetti Nea Earth o Neo. Questi asteroidi potenzialmente pericolosi, o PHA, rischiano di entrare in collisione con il pianeta, un'eventualità che si rivelerebbe devastante. Attraverso telescopi specializzati e l'osservazione di fotografie estremamente, dettagliate. Quindi, si cercano punti di luce che si muovono in linea retta. Quando arriva l'asteroide che minaccia la Terra? L'asteroide pericoloso è stato scoperto attraverso l'intelligenza artificiale e un algoritmo sviluppato con software pensati appositamente per lo studio del sistema solare. 2022 SF-289 è stato fotografato da Atlas per la prima volta il 19 settembre 2022, a 13 milioni di chilometri dalla Terra, e si sta avvicinando. Non rappresenta un pericolo per la Terra nel prossimo futuro, ma il suo monitoraggio è essenziale per comprendere gli sviluppi ed eventuali avvicinamenti che possono mettere a rischio l'incolumità del pianeta. Dimostrando l'efficacia nel mondo reale del software che Rubin utilizzerà per cercare migliaia di asteroidi potenzialmente pericolosi ancora sconosciuti, la scoperta di 2022 SF-289 ci rende tutti più sicuri, ha dichiarato Arienze, scienziato di Rubin, principale sviluppatore di IllyLink 3D e ricercatore dell'Università di Washington.